Oh hi! It's me again! Qui davanti a me ovvero Starbucks Bene sì perché sono usata da Starbucks E non solo per l'ice pumpkin spice latte Che me ne sono innamorata Io già amavo quello caldo Non ho preso solo quello Perché ho preso anche cup reutilizzabile Queste qui sono quelle da 2,50€ Che è zuzza raga la devo lavare L'ho presa dal lavandino infatti cerco di maneggiarla Almeno possibile perché è zuzza È bellissima però Poi raga ho preso lui Non so se in realtà faccia parte della collezione di Halloween Dai colori un po' potrebbe anche essere Però è super glam È veramente veramente bello secondo me Sono stata a Milano 3 giorni E sono trattenuta fino all'ultimo Ok ogni giorno lo vedevo Lo vedevo Lo vedevo e non lo prendevo L'ultimo giorno no Cioè ho detto ok è destino È destino Ormai è introvabile da Starbucks Tazza in zucca Magari ve la faccio vedere di qui Che c'è anche il loghino Starbucks Questa l'avevo vista se non sbaglio Anche prima che uscisse in negozio Proprio dalla loro pagina Instagram Ovviamente non so se la utilizzerò Perché io ho un po' un problema con le tazze Di questi qui insomma che si rompono Ho paura di romperle E quindi o le utilizzo super raramente O le tengo proprio da collezione Ultima cosa di Starbucks Ma presa su Vinted Ci capiamo? No forse non ci capiamo Perché non è così semplice Ma si illumina il buio Cioè raga è flue È bellissima È bellissima Questa l'ho presa su Vinted Infatti l'ho pagata anche abbastanza Perché tra spedizioni E comunque questa l'avevo messa anche un pochino di più Perché essendo limited Non arriva in Italia Da quello che ho capito dovrebbe essere un'edizione limitata In Francia e Spagna Tra l'altro questa mi è arrivata anche con tutti gli adesivi Adesso che l'ho tenuta puntata qui davanti alle luci L'ho girata un po' di qua Ho più buio E sta diventando un po' verdina Ma penso che non renderà assolutamente Vedo magari se riesco a inserirvi una qualche clip Visto che siamo passati a Vinted Direi di continuare con Vinted E mi sono accorta Cosa gravissima Di non avere Una camicia leopardata A manica lunga Ne avevo una manica corta Ma Mi serviva per fare alcuni outfit Quindi Why not Questa tra l'altro è di H&M Una XS Però è un XS che veste bella abbondante Mi piace un sacco come leopardato La trovo molto carina È super morbidina Ti odoro rosso Perché Cosa fai? Te ne preivi? No Questa è proprio super semplice Ce l'avevo già Simile in nero Anche questo con Outfit 80 Secondo me ci sta molto bene Borsa leopardata Questa pensavo che fosse un filo più piccola No È bella grande È super spaziosa È di Lantadeli Ho controllato online E da quello che ho capito Era un negozio di Parigi Che ha chiuso E adesso le sue borse sono introvabili Io Raga l'ho presa a tipo 3 euro Su Vinted È perfetta Questa l'avevo inizialmente presa Per Outfit Pinup Però non lo so Magari potrebbe starci anche Per Outfit 80s Magari aggiungendo una fascetta qui Subito ero anche un filo indecisa Se colorare gli hardware di rosso Sempre per stare in tema Leopardato Tacchi Quanto sono belli E poi Hanno la sola rossa Io impazzita Anche questi Secondo me Vanno molto bene Sia per Outfit Pinup Sia per Outfit Più 80s Glam Veramente Veramente Belli Sono anche molto comodi Per quanto possono essere comodi I tacchi E per quanto riguarda Vinted Dovremmo aver finito Direi di passare al make up Finalmente siamo tornati con del make up Negli haul Sono stata da NYX E ho voluto riprendere questa cipria Perché nell'altra Ci avevo fatto il buco Ho ripreso esattamente la solita colorazione Tra l'altro La sto indossando in questo momento Mi piace un sacco come effetto Dalla collezione di Fate Non potevo farmi sfuggire questo illuminante Ve lo faccio vedere Aperto magari Che non rende raga Non rende Ma ha la texture Veramente simile Agli Extreme Frost Di Jeffree Star Ho voluto finalmente Provare anch'io Uno di questi Shine Loud E dire che ne sono rimasta colpita È poco Cioè Sono stupendi Volevo proprio Sempre per Magari make up 80s Delle labbra rosse Ma lucide Mi piacciono tantissimo E ok Avrei semplicemente potuto farle Con un rossetto rosso E del gloss Solamente che poi Uscendo Parlando Penso che me lo sarei trovata Ovunque Questo raga È la svolta Perché voi applicate Il colore Lo lasciate settare Qualche secondo E poi lo andate a settare Con questo suo gloss Che però Non trasferisce Se voi fate anche La kiss proof Resta soltanto Il lucidino del gloss Ma il colore sotto Assolutamente no Queste due cosine Che sto per farvi vedere Raga In realtà le ho prese ad agosto E voi mi direte Perché non ce le fate Vedere nel scorso haul Semplicemente perché Me ne sono totalmente Dimenticata Sono due cose Che ho preso da Pinalli Avevo tipo Il 30% di sconto Durante tutto il mese Del tuo compleanno Al 30% da Pinalli Ne ho approfittato Per prendere Mulac Direi di iniziare E' bellissima E' bellissima La stavo puntando La stavo puntando Da tantissimo Lo so E non è assolutamente Una nuova uscita Però non avevo ancora Avuto occasione Di provarla Mi dà veramente Un sacco di vibes Natalizie Soprattutto per quanto riguarda La fila qui in mezzo C'è proprio Natale Mentre questo invece Me l'ha regalato mamma E sto parlando Di questo illuminante In crema L'ho preso Nella colorazione 03 Madness Gold Ve lo swatcho Un attimo Perché merita Un sacco E' tipo gelatinoso Si può utilizzare Sia come illuminante Io l'ho provato Anche sugli occhi Anche soltanto picchiettato Un po' Con un pennello Da sumatura ampio Per avere un effetto Comunque bello diffuso Bellissimo Bellissimo Ultima cosina Per quanto riguarda Il make up Preso da Primark Questo è un lip balm Cioè raga Quanto è carino Mi piace un sacco Tra l'altro Ho scoperto Che questo di Hershey Era una limited edition E' nella profumazione Cookies and Mint Ha un'apertura Un po' particolare Quando mi chiedono A che cosa ti servono Le unghie Cioè vedete Vedete a che cosa Servono le unghie Ecco Mi può poi levare Solamente con il dito Ma raga La profumazione Mi dispiace Non potermela far annusare Perché L'ho annusata Mi è venuta fame Non stavo pensando Al cibo Stranamente Ce ne erano anche Con altri pack Super carini Però questo era limited Quindi why not Sempre da Primark Calzini Questo set con due paia Ho preso questo Perché aveva Ovviamente le donuts E poi ce n'era un altro Super carino Lilla con tutti i pois Queste sono da casa Sono antiscivolo Ultima cosina Per quanto riguarda Primark Ho voluto riprendere Un altro scrub Perché era a metà prezzo E a me Questi scrub Mi piacciono tantissimo Sono super forti Sono passata anche da Sephora A ritirare il regalo Di compleanno E mi hanno dato Questa maschera Per gli occhi Tipo Sono dei patch occhi Al cetriolo Mi viene da ridere Per quello che sta Per mostrarvi Cartigenica nera Con i ragnetele Questa presa da Tiger La cercavo in realtà Già dall'anno scorso Ma era introvabile Quest'anno appena l'ho vista Subito mia Ovviamente resterà da decorazione Perché è troppo bella Passiamo a Shane E non siete pronti In realtà questi me li ha presi Mia mamma E ora tipo Oh mio dio Ne belli Sono degli shorts Tutti super mega Holografici Questi sono quelli che utilizzo Di solito Per allenarmi Non per far polpa Perché sono un po' Troppo vita alta E mi serve il grip Del fianco Però per workout Normale Va benissimo Sempre da Shane Pigiamino Con le donuts Giusto per restare in tema Con i calzini Questo è il sopra È super comodo In realtà l'ho recuperato Dalla lavatrice Infatti adesso Finirà subito Di nuovo lì dentro Era giusto per farvelo vedere Per lol E questo è il pantalone Sono comodissimi Cioè Sono una S Ci sta dentro Dieci volte Però who cares Sinceramente Ho un pigiama Lo utilizzo Per stare in casa Voglio stare comoda Da H&M Ho preso questa camicia È super 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 cropped Tutta tartan Mi piace tantissimo Questo tipo di tartan Io ho un po' Un problemino Con il tartan Se non si fosse notato Così un po' Come il rosso E il leopardato L'avreste mai detto? Secondo me Può essere carina Con vari tipi di outfit Ultima cosina Per questo haul Altro chiodo Questo By Cinese Sotto casa Può sembrare Super semplice Un chiodo nero No Ma no Raga Ha tutte le frangette E la trovo bellissima Anche questa Per outfit 80's Secondo me è proprio La cosa È super morbido Anche questo Come quello rosso Alla cintura Bellissimo Sto notando Che è attaccato Qui Quindi tipo Dietro non c'è E mi piace In realtà Sta cosa Perché ne ho Uno Nero Molto simile Senza le frange Che però Ha la cintura Che si stacca E spesso Rischiato di perderla E nulla raga Questi erano Tutti gli acquisti Per quanto riguarda Il video All di Oggi 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 Fatemi sapere Qual è stato Il vostro pezzo Preferito Io come al solito Vi ricordo di andare A dare un'occhiata Giù nell'info box Perché li troverete Tutti quanti Il link Mi raccomando Che vi aspetto Io vi ringrazio Per essere stati con me Fino a questo punto Del video Vi mando un mega bacione Noi ci vediamo Settimana prossima Con un nuovissimo video Ciao